Musica Raul, piacere Enrico Beh, belli questi, eh Gli hai testo quando cercano di parlarti, come se solo perché hanno dormito a casa tua Sono costretti ad essere pure simpatici Tu fai la collezione, eh? No Vai a prepararti, Raul, che fai tardi a scuola Non faccio mai tardi a scuola Senti, Raul, se vuoi ti do un passaggio io in moto, eh Ci mettiamo un attimo Ho la bici Ah, è la bici? Beh, che bici è? Bianchi, doppio freno, sei marci, tre coloni, diciotto rapporti, rossa cromata Come la mia, anch'io uguale, uguale identica, da piccolo Che modello era? Era una bici, insomma, aveva due freni Che freni? Disco o retropedale? Allora? Che tipo di bici? Monta bai, city bike, da corsa Ma, insomma, era una bici, era bella, c'aveva due ruote Capito? Vai a preparare lo zaino, vai? Ciao Enrico Aspetta Ciao, Raul Guarda, che bella Ma non mi sa chiudere? Oh, questi ammortizzatori Dai, andiamo Tardi, su Andiamo Guarda, sono le otto, medici sgrida Andiamo Ammesso? È tua? Sì Quanto fa? Una volta ho toccato i 260 Dai, andiamo Fai 260? Ci hai fatto un giro anche te? No Andiamo Bravo Mio padre non riesce a fare più di 90 Ma lui chi è?